Il teorema di Cantor Quindi si usa dire Una funzione continua su un compatto Automaticamente è uniformemente continua Allora, vediamo un po' Prima di dimostrare il teorema Se questo teorema contraddice Gli esempi abbiamo visto prima Nell'esempio numero 1 La funzione che non era uniformemente continua Vabbè, questo era già l'esempio 2 Nell'esempio 2 La funzione è continua dove Su R meno origine Ma R meno origine è compatto? Automaticamente è un teorema Infatti la funzione in quel caso Non è uniforme Nell'esempio 1 Se vi ricordate la funzione è x quadro Definita su tutto R Ma R è compatto? La funzione è continua Ma R è compatto? No, perché stavolta è chiuso Ma non è limitato Quindi questo teorema Non contraddice in alcun modo Gli esempi precedenti Allora Dimostrazione Supponiamo per assurdo Per assunto Che F Non sia Uniforme interutile Sul caso Allora Allora Deve esistere un epsilon positivo Tale che Per ogni n appartenente a n Per ogni tetto maggiore di 0 Io voglio prendere tetto uguale a 1 su n Devono esistere X con n e y con n Taliché La distanza in x Di x con n da y con n Sia minore di 1 su n Ma taliché La distanza in y Di f di x con n Da f di y con n Deve essere maggiore o uguale Chiaro Ok Allora Qua sarebbe delta uguale a 1 su n No? Devono esistere due punti Che la distanza in partenza È minore di 1 su n E la distanza in arrivo È maggiore o uguale a 2 Se vi ricordate Era Se neghiamo Uniforme continuità Per ogni delta Esistono x con delta E x con delta Da dire che la distanza in partenza È minore di delta E la distanza in arrivo Deve essere maggiore o uguale a 2 Io prendo semplicemente Delta uguale a 1 su n Qua invece di scrivere X 1 su n Scrivo x n Perché? Se x dipende da 1 su n In sostanza dipende da n Quindi Mi viene più incontro Scrive così Perché così Ottengo una succe Anzi due successori Allora x con n E y n Dove stanno? Stanno in k Qua è la proprietà fondamentale dei compatrii Che da ogni successione è possibile estrarre una sottosuccessione convergente in k Quindi Esiste Una sottosuccessione x con n j Tale che La distanza Diciamo Il limite Per j che tende a infinito di x con n j È uguale a x che appartiene a k Questo sarebbe a dire Che la distanza in x Di x con n j Da x Tende a 0 Quando j tende a infinito Grazie a tutti Questa in k Questa in k Ottengo questa Adesso andiamo a vedere La distanza Di y n j Da x Questa distanza è più piccola E la distanza di y n j Da x con n j Più la distanza di x con n j Da x Allora questa è una distanza positiva Che è la distanza Questo qua è più piccolo di 1 Sta scritto qua Questa è la minore di 1 su n E questo sarà la minore di 1 su n j Perché lì dice qua n j Allora che succede quando j tende a più infinito Questa Tende a 0 Perché x con n j tende a x Questa Tende a 0 Tende a 0 Tende a n j Va infinito Un'estratta di n Va infinito E quindi la somma Tende a 0 Che significa Quindi Il limite Su j di x con n j Di y n j Chi è? Y con n j A chi tende? All'x con n j Commergeva x Y con n j Invece? Pure Pure Commerge x Dai stanza di questo Da questo Sta vicino a x con n j No Quindi Commerge appresso a lui Sì Allora Quelli stanno sempre più vicini Se x con n j Se ne va In un certo posto E se l'altro Se lo trascina a x Quindi Vediamo se riesco a finire La dimostrazione In questo riguadro qua Quindi Il limite Il limite Di f di x con n j A chi? Conmerge Con n j Conmergeva A x F di x con n j A chi? Conmerge A f di x Perché la funzione Ecco Continua E quindi E quindi F di y n j A chi? Conmerge A f di x pure lui E la funzione E la funzione è continua Un'altra volta Perché la funzione è continua Quindi La distanza In y Di f di x n j Da f di y n j Come la posso maggiorare? La posso maggiorare Con la distanza In y Di f Allora questa distanza Ovviamente È positiva La posso maggiorare Con la distanza Di f di x con n j Da f di x Sempre per la sguaglianza triangolare Più la distanza Di f di x Da f di y n j Che succede Quando j tende a più infinito? A questa Tende a Zero Questa invece Pure Quindi questa distanza Tende a Zero Oh C'è un problema Lo scrivo in quest'altro Per il riguardo qua La distanza In x Di f di x n j Da f di y n j Com'era? Questa Maggiore di y Per ogni n Sta scritto qua Per ogni n E allora Quando ci vado a mettere n j Sarà ancora Maggiore o uguale di y Ed y è fissile Positivo Positivo Allora come fa una successione Che è sempre più grande di y A tendere a zero Non è Possibile Abbiamo trovato Un assurdo Quindi Supponiamo che non sia uniformemente continua Allora abbiamo Due successioni fatte così Sempre più vicini Con le immagini Che non si avvicinano Perché la distanza è sempre più grande di y Ma siccome siamo su un compatto Compatto Una delle due successioni Estraggo la sottosuccessione convergente L'altra Se estraggo la corrispondente sottosuccessione Converge appresso a questa Converge allo stesso punto Qua la sottosuccessione Convergeva a 7 E qua la sottosuccessione Converge a 7 Il problema adesso È che queste due successioni Convergono allo stesso punto Questa converge a x E questa converge a y Le immagini Deve non convergere Pure loro allo stesso punto A f di x E a f di x Perché? Perché la funzione è continua Ma come fanno A convergere allo stesso punto Se la distanza è sempre più grande di y È impossibile Questo assurdo Nasce Dal fatto che noi abbiamo detto Supponiamo che sia Che non sia uniformemente continua Quindi Non è possibile Che non sia uniformemente continua Quindi La funzione non è la funzione È chiaro? Ok Mo Andiamo a vedere Degli esempi Degli esempi Degli esempi Di Confonderni Degli esempi Degli esempi Sottotitoli Mi Degli Non è possibile Di prendiamo la funzione sempre da x in x x e y sono i due spazi meno ognuno con la sua distanza li scrivo così per quale motivo li scrivo così? noi quasi sempre andiamo da r in r o da e in r quindi la distanza è la stessa sia in partenza che in nativo però poi quando faremo analisi 2 andremo da rn in r rn sarà lo spazio medio con la sua distanza capito? le cose cambieranno ma queste cose che sto dicendo rimarranno valide oppure quando avremo una funzione da valore vettoriale andremo da rn in rn oppure quando avremo un operatore andremo da uno spazio di funzione in un altro spazio di funzione però le definizioni rimangono varie fin quando in partenza in nativo c'è un spazio medio ovviamente nel caso che spazio di partenza sia r spazio di arrivo sia r la distanza è la stessa della distanza euclidea che sull'era abbiamo messo solo la distanza euclidea allora qual'è la definizione che ancora non l'ho data? a f si dice l'ipschiziana si scrive l'ipschiziana l'ipschiziana di costante L se sono se per definizione la distanza in x di f di x da f di y è minore o uguale di L volte per la distanza in x di x da y per ogni x e y in x grande quindi che cosa vuol dire che una funzione è l'ipschiziana che le distanze tra due punti quando vado ad applicare la f non aumentano più di un fattore L vediamo se avete capito perché non può esistere una funzione lipschiziana con costante negativa questa si chiama costante lipschiziana di A perché come fa a essere una distanza questa minore o uguale di un numero negativo è possibile quindi la cosa supponiamo che una funzione lipschiziana sia di costante nulla che vuol dire? è un punto chi? l'immagine di f allora se la funzione ha la costante 0 che vuol dire che qua la distanza in esempio è 0 allora prendi f di x tutti gli altri f di y hanno una distanza f di x di 0 che vuol dire che l'immagine è un punto e come si chiama una funzione che ha per l'immagine un solo valore? la costante quindi le uniche funzioni di costante lipschiziana sono le costante la funzione è identica dallo spazio medico in sé f di x uguale a x è lipschiziana e di che costante? l'applicazione è identica qua ci avrò distanza in x di x da y distanza in x da y da y e qua che ci devo mettere? 1 e la funzione identica è una funzione f di costante 1 ok? cioè ci posso anche mettere 2 perché qua c'è minore uguale ma ovviamente la costante migliore che ci posso mettere la più bassa è 1 e se prendo la funzione da r in r che vale 2x sarà lipschiziana di costante? 2x meno 2x mettendo in sé 2 adesso vado a fare un esempio f da r in r f di x uguale valore assoluto di x è lipschiziana di costante 1 beh, basta questa è una disuguaglianza ovvia provate quando passate i valori assoluti i numeri si avvicinano o rimangono uguali o se diciamo la distanza rimane uguale questa non è atto che valore assoluto di f di x non f di y meno uguali 1 per valore assoluto di x quindi la funzione valore assoluto che ha questo grafico qua è lipschiziana di costante 1 questo per farvi capire anche che una funzione lipschiziana non è detto che sia derivabile la funzione valore assoluto è derivabile dappertutto tranne che in 0 non è funzioni lipschiziana non è deve essere il forzo di questo anzi ecco facciamo un altro esempio se f va da e a valori in r e un intervallo diciamo un connesso o un connesso vai cioè che significa l'intervallo se vi ho detto l'e poi f appartiene a c1 di e f' di x minore o uguale di l per ogni l appartenente per ogni x appartenente ad e allora f è lipschiziana di costante per quale motivo si vado a fare f di x meno f di x questo è uguale a y meno x per f' di x come x se vi ricordate è un punto diciamo che x è la minore di y e allora un punto intermedio questo chi è? se ci dogliete parlo assoluto questo è il teorema di Lagrange però il teorema di Lagrange lo potete applicare in quanto l'insieme è connesso intervallo se vi è letto se no no prendete la funzione segno quella di prima x diverso da 0 la derivata quando vale sempre 0 che la funzione è costante di qua e costante di là ma non è uniformamente continua e non è lipschiziana perché tra i negativi e i positivi Lagrange non lo puoi applicare se vi ricordate tra meno delta terzi e delta terzi non lo potevi applicare qui invece lo puoi applicare allora cosa sai che la derivata è sempre più piccola di L quindi qua diviene L per x meno quindi se una funzione è derivabile su un intervallo sulla semiretta o sulla retta e la derivata non eccede mai una costante quindi se la derivata non supera mai uno allora sicuramente la funzione è l'efficienza ok diamo un altro esempio prima di dare un altro esempio una funzione elipschiziana è uniformamente continua domanda grazie a tutti osservazione proposizione chiamata come i pari osservazione F elipschiziana implica F U C il contrario in generale come è abbiamo F da x in y se no non va solo allora io dico sia epsilon maggiore di 0 prendiamo delta uguale epsilon diviso L se la distanza in x di x da y è minore di epsilon diviso L allora la distanza in x di f di x da f di x è minore è uguale LV per delta che è uguale a LV per x diviso L LL si trova lipschiziana di costante L lipschiziana di x diciamo si è epsilon maggiore di 0 ed L è la costante di la costante di lipschizianità di f ok quindi questo qua è una osservazione banale quindi che se la funzione è lipschiziana è meglio che uniformemente continuo uniformemente continuo è meglio che continuo allora diamo un esempio di una funzione che è uniformemente continua ma non è lipschiziana allora f di x uguale a radice di x x appartenente a 0 infinito allora questa qua è uniformemente continua allora guardate quanto fa la derivata di questa quanto fa la derivata vedi x all'aumento quanto fa la derivata 1 fratto 2 radice di x che però esiste per x appartenente solo è così infatti qua la derivata in 0 non c'è la derivata la derivata la derivata la derivata è più infinita qua la ragione verticale però la funzione è continua allora come funziona questo ragione io dico che questa funzione qua è uniformemente continua su 0 più infinita posso applicare canto posso applicare canto no perché non è compatto però la mia f è uniformemente continua una su 0 2 0 10 sì o no 0 10 sì perché questo è compatto mettiamoci 0 a più infinita è limitato sì la funzione è continua sì per canto non è uniformemente continua per canto se vado da 1 a più infinito la derivata è meno di 1 anzi meno di 1 mezzo allora radice di x x è maggiore o uguale di 1 radice di x è maggiore o uguale di 1 il reciproco è meno o uguale di 1 e 1 mezzo è meno o uguale di 1 posso dire che la funzione è uniformemente continua da 1 a infinito sì è l'ipsitziana con costante l'ipsitz meno di 1 l'abbiamo visto prima se una funzione su un connesso c'è la derivata meno o uguale di L l'ipsitziana è costante l quindi questa qua questa funzione è qua qua è uniformemente continua per canto qua è c'è la derivata meno di 1 mezzo quindi è l'ipsitziana quindi è uniformemente che vuol dire ora che succede se questi due insiemi erano staccati non potevo dire niente ma se per esempio prendo a maggiore di 1 basta che prendo l'auguale a 2 questi due insiemi sono hanno un'intersezione vuota cioè unendoli ottengo un insieme di nuovo connesso connesso tengo la semiretta allora che vuol dire che se f uniformemente continua di qua e uniformemente continua di là cioè se io quando devo fare due punti no? qual è qual è che la cosa è significativa? quando delta è piccolo allora se io prendo da 0 a 2 e da 1 a più infinito vedete io posso sempre prendere delta abbastanza piccola in maniera tale che i due punti in partenza stanno o tutti di qua tutti e due di là o tutti e due di qua questo significa i dettagli provate a farli da subito comunque significa che se la funzione è un riformante continua di qua un riformante continua di là è un riformante continua su tutto 0 ok? qual è il problema? il problema è che questa funzione in 0 la derivata non ce l'ha qua il limite del rapporto in chiarità ne va a più infinito oppure prendete semplicemente questa funzione su 0 a è un riformante continua posso dire che è l'ipsiziana? no per quale motivo? se fosse l'ipsiziana supponiamo per assurdo per assurdo che f di x uguale a radice di x sia l'ipsiziana di costante L allora radice di x meno 0 dovrebbe essere minore di L per x questo dovrebbe essere vero per ogni x maggiore di 0 questo è chiaramente assunto perché se andate a fare questo diviso questo questo va più infinito quindi uno su radice di x va più infinito questo diviso di maniera sarebbe f di x meno f di 0 radice di x meno radice di 0 fa radice di x dovrebbe essere minore di L per x meno 0 che fa L e questo non è possibile quindi praticamente quando una funzione ha le derivate che da qualche parte vanno a più infinito sicuramente non è l'ipsiziana però perché le derivate vanno a più infinito quindi come vedete il quadro si complica un po' perché noi abbiamo se è l'ipsiziana uniformemente continua se è l'uniformemente continua è continuo ma se è continuo non è detto che sia uniformemente costante però se stiamo sul combatto è di nuovo uniformemente continuo perché vale costante però se è uniformemente continuo non è detto che sia l'ipsiziana se è l'ipsiziana non è detto che sia derivato perché la funzione valosso di x è l'ipsiziana non è derivato di z quindi come vedete ogni concetto ha le sue definizioni precise e si deve incastonare insieme agli atti con ragionamento c'è poco da fare noi poi ci dobbiamo fare tutti gli esempi e i casi possibili continua significa una cosa un'uniformemente continua significa un'altra cosa l'ipsiziana significa un'altra cosa buona l'ipsiziana è meglio uniformemente continuo quindi uniformemente continuo è meglio di continuo vale canto cioè se è continuo sul combatto uniformemente continuo vale il fatto che se la funzione è derivabile con derivata limitata su un connesso allora è l'ipsiziana e quindi è meglio uniformemente continuo questo è quanto ci serve per adesso ci sarebbe un altro concetto da includere il concetto di funzione elteriana ma lo lasciamo stare perché vi vedo alquanto provati allora anticipiamo la pausa di due minuti perché poi nella prossima ora possiamo fare solo 30-40 minuti perché poi devono venire se non sbaglio se non sbaglio quelli di ingegneria ci mi da fare la progettazione quindi anticipiamo la pausa di due minuti la facciamo un po' più breve così almeno salviamo diciamo 30-40 minuti perché devo fare un argomento importante grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti